Grazie, io dico soltanto che i diritti sono delle cose semplici e complicate, semplici perché sono le basi della vita, delle convivenze, complicate nell'attuarsi. Sono molto contento di essere qui, sono molto contento che non piova, il fatto che non piova per il momento è la dimostrazione che se Dio esiste appoggia la laicità e ho la dimostrazione che Dio ci appoggia anche se non esiste per tenere. E quindi faremo una cosa, credo mai fatta, un po' l'accennava bene Luca, metteremo insieme molti diversi aspetti di quel bisogno che tutti abbiamo e che chiamiamo laicità, quindi faremo una cosa con molte voci e io farò il triste vigile laico, quello che richiamerà all'ordine, perché credo che uno dei vantaggi delle ragioni fondanti della laicità sia di non essere noiosi e di riuscire a essere brevi. E cominciamo allora con un pezzo del corpo sociale che a differenza di altri incarna tante cose e credo che incarni anche la responsabilità. A volte la politica non è responsabile, a volte le amministrazioni non sono responsabili ma gli artisti sono sempre responsabili. Elio De Capitani. Salve, sono qui perché condivido il manifesto e le idee ma sono qui anche perché tutta la mia vita è intrisa dell'idea che non dare diritti a tutti crea un dolore inutile. Lo sappiamo tutti che prima o poi succederà, il paese è solo in ritardo, non potranno impedire per sempre, potranno soltanto rallentare e rallentare all'infinito ma rallentare, prima o poi questi diritti saranno concessi. Tutti, lo è successo anche in paesi impossibili, pensate all'Irlanda, il miracolo dell'Irlanda ci insegna qualcosa. Ma io sono qui anche perché sono nato nel 1953 e sono stato allevato da una famiglia di cinque donne, tre ragazze madri, alcune erano donne che amavano le donne e la mia famiglia è la più bella del mondo. Quando sento parlare della necessità della figura paterna, perché in una famiglia ci vuole una figura paterna e della necessità della figura materna, io ho avuto tutto da quelle donne, mamma, zia, papà, tutto avuto e non le cambierei con nessun'altra. E inoltre nella vita ho assistito persone in fine vita, fra cui mia madre, voglio che mio figlio abbia il diritto indipendentemente dal suo orientamento a sposarsi ed avere dei figli, adottarli, voglio che la vita che è stata durissima per mia madre, perché era diversa, diventi una vita normale per mio figlio. E allora... E allora è proprio dalla vita che uno prende la forza di lottare, perché non ha voglia di aspettare. La vita delle persone scorre e se i diritti arrivano quando una persona è già morta, ti viene da piangere, recentemente è morto un mio carissimo amico omosessuale che ha lottato tutta la vita per dei diritti che non ha fatto in tempo ad avere. E questo mi ha dato un dolore, un dolore incredibile. Certo c'è un altro mio amico che si va a sposare a Londra il 28 di ottobre, faranno una bellissima cerimonia, hanno già tutte le carte pronte, ma perché a Londra? Perché non qua? Perché non nella nostra città? Perché non in Italia? Dicevo che ho assistito persone, tre persone in fine vita e sapete quanta ipocrisia c'è in questo paese? Perché si fa tutto in questo paese, uno può anche decidere. Io un giorno sono stato messo di fronte a queste parole, cosa vuole fare? E io ho detto, purché non soffra. Bravo. E un'altra ragazza che non sapeva ha detto, fate qualunque cosa. E loro sono rimasti male, perché fate qualunque cosa ha portato quella persona a stare in una condizione terribile, in rianimazione per tanto tempo. E non c'era niente da fare per quella vita. Io le ho vissute queste cose, quindi penso che i diritti siano qualcosa che vanno preso il prima possibile, perché altrimenti la sofferenza inutile aumenta. Io vi leggo due poesie, una dolce e una dura. Quando parliamo di laicità, parliamo di una condizione che l'urgenza mia, e anche perché essendo ateo, non credo al dopo. E allora vi leggo una poesia dura, Brecht l'ha scritta vent'anni, ed è una parte di noi, non dico, noi siamo, la cosa bella di essere laici che sia diversi. Si hanno tante idee diverse. E imparare a essere laici significa anche non litigare fra laici, non fare le chiese. Forse i diritti ritardano anche perché ci massacriamo fra di noi per differenze minime. Ho sentito aggressioni in questi giorni anche per questa manifestazione, aggressioni inutili. Saremo sempre meno se continuiamo a litigare e a dividerci. C'è bisogno di accelerare. E allora la poesia durissima, scritta da Brecht a vent'anni, è contro la seduzione. Non vi fate sedurre, non esiste ritorno. Il giorno sta alle porte, già è qui vento di notte, altro mattino non verrà. Non vi lasciate illudere che è poco la vita, bevete la gran sorsi, non vi sarà bastata quando dovrete perderla. Non vi date conforto, vi resta poco tempo. Chi è disfatto, marcisca. La vita è la più grande, nulla sarà più vostro. Non vi fate sedurre da schiavitù e da piaghe. Che cosa vi può ancora spaventare? Morite con tutte le bestie e non c'è niente dopo. Questo è il nocciolo duro, è il nocciolo duro cattivo anche, cattivo di una condizione laica, no? Che la vede la vita tutta. Anche a vent'anni la puoi vedere come finirà, no? E Brecht l'ha fatto perché è un poeta straordinario. Quest'anno sono i suoi 60 anni e bisogna ripensarci. Anche come poeta. E invece ne prendo un altro che viene considerato sempre unichilista, Paul Celan. Paul Celan scrive una poesia d'amore. È una poesia d'amore che lui dedica ovviamente a una donna, cioè un amata. Ma io dentro questa poesia, dandone un'interpretazione diversa, voglio invece mettere il secondo aspetto della nostra città, che è la speranza e la voglia di conquistare molto in fretta dei diritti per questo paese. E quindi trasformo una poesia d'amore in una poesia di lotta attraverso un aiuto vostro del pensiero. Non date sesso agli amanti e capirete quanto questa poesia può parlare un altro significato rispetto a quello suo originario. L'autunno mi bruca dalla mano la sua foglia. Siamo amici. Noi sgusciamo il tempo dalle noci e gli insegniamo a camminare. Lui ritorna nel guscio. Nello specchio è domenica, nel sogno si dorme, la bocca fa profezia. Il mio occhio scende al sesso dell'amata. Noi ci guardiamo, noi ci diciamo cose oscure, noi ci amiamo come papavero e memoria, noi dormiamo come vino nelle conchiglie, come il mare nel raggio sanguigno della luna. Noi stiamo allacciati alla finestra, dalla strada ci guardano. È tempo che si sappia. È tempo che la pietra accetti di fiorire, che la fanno abbia un cuore che batte. È tempo che sia tempo, è tempo!